Per ridurre il numero di procedimenti e quindi la lentezza della giustizia italiana, la riforma cartabia prevede un'estensione dei reati per cui si procede penalmente solo dopo la presentazione di una querela. Per fare alcuni esempi, dal 1 gennaio di quest'anno, nei casi di violenza privata, sequestro di persona o non aggravato, lesioni personali dolose o lesioni personali stradali senza gravanti, non sono più le procure a procedere se hanno una notizia di reato, ossia quando si apre il cosiddetto fascicolo. Ma sarà necessario che le persone danneggiate presentino una querela entro tre mesi. Una riforma che porterà quasi sicuramente a uno sfoltimento del carico di lavoro delle procure, ma non è chiaro se riuscirà a tutelare adeguatamente le persone vittime di reati e non aumenti i casi di impunità. Ci sono parecchi punti interrogativi che rischiano di creare una impunità anche per comportamenti che sono violenti e gravi. Per fare altri esempi, anche il furto aggravato è procedibile a querela se c'è violenza sulle cose e non sulle persone, cosa che potrebbe portare impunità soprattutto se le vittime sono turisti stranieri. Ad esempio se l'autore del fatto viene colto anche in flagranza di reato perché sta rubato appena la macchina e viene fermato, questi sono reati procedibili a querela. Quindi se non è presente la parte offesa, il reatto non è procedibile fino a quando non verrà appunto presentata la querela, cioè nei tre mesi, per cui la persona non può essere arrestata. Altre criticità possono sorgere nelle zone ad alta criminalità dove le persone sono sottoposte a forte intimidazione. La procedibilità a querela potrebbe essere condizionata da un atteggiamento intimidatorio o minaccioso, cioè si immagina se ad esempio in una zona ad alta criminalità viene rubata la macchina e viene fermato il malfattore e in presenza della parte offesa si chiede appunto se voglia procedere. Queste condotte rimangono procedibili d'ufficio nei casi in cui la vittima sia considerata una categoria vulnerabile, minorenni, anziani o persone con disagi mentali. Secondo alcuni, tra i lati positivi della riforma c'è il fatto che eviti in questi casi la carcerazione preventiva e quindi contrasti quanto possibile il sovraffollamento carcerario.